No, intanto mi fa molto piacere che abbia vinto anche lui, ci siamo trovati, mi ha detto che era venuto a vedere la partita nostra in casa che abbiamo vinto con l'Ascoli e mi ha invitato la sera a andare a vedere la sua partita, ci sono andato volentieri, il basket mi piace e quindi ci siamo portati fortuna a vicenda. Speriamo che continui così perché è un piacere anche molto bello interagire con altro sport, così tra di noi, trovarci e ricambiare un pochino, anche qualche idea su conduzione, non parlo di tattiche ma parlo di conduzione magari, ci sono cose interessanti che si possono ottenere scambiando anche con tecnici di altro sport.